Il ruolo dell'agricoltura nella tutela del territorio e del paesaggio è il tema su cui si è concentrato l'appuntamento a Chiaravalle presso lo spazio associativo di Viale Rinascita, un dibattito organizzato da Comune e Associazione Iopolis su sostenibilità, consumo del suolo e sensibilizzazione delle tematiche ambientali, cui ha partecipato anche Maria Letizia Gardoni, neoeletta presidente della Coldiretti Marche. Un'agricoltura che è vissuta sia dagli agricoltori nelle campagne dei nostri paesi e dei nostri territori, ma soprattutto un'agricoltura che si mette a servizio della città e delle comunità a cui tutti i giorni si rivolge. L'agricoltura italiana e ovviamente anche quella marchigiana della nostra provincia sta dando delle risposte sempre più puntuali a dei bisogni nuovi che i cittadini stanno manifestando e questo percorso nuovo di crescita e di condivisione è nata in un momento in cui gli agricoltori stessi hanno capito che per poter portare avanti con successo la loro attività imprenditoriale dovevano legare il loro obiettivo imprenditoriale al benessere dei consumatori a cui tutti i giorni si rivolgono. Se l'agricoltura è un bene comune, come si tutela? Consideriamo alla stregua dell'acqua, alla stregua dell'aria anche l'agricoltura come un bene comune, quindi tutto ciò che gira intorno a questo concetto. E fondamentalmente un aspetto importante è quello del consumo del suolo che deve essere evitato, soprattutto di Chiaravalle che in questi ultimi decenni attraverso delle politiche effettuate dalle precedenti amministrazioni scellerate hanno provocato un consumo del suolo elevatissimo. E in base a ultimi studi che noi abbiamo effettuato come pubblica amministrazione non dobbiamo procedere a consumare ulteriore suolo ma a riqualificare l'edificato esistente. Ecco, questa è la politica che noi ci prefissiamo. L'appuntamento agricoltura a bene comune rientra in questi No Impact Days a Chiaravalle. Che cosa sono? I No Impact Days sono un'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale ormai sei anni fa e sono volte una serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente e quant'altro, insomma, le tematiche adesso correlate.